Musica 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 Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. Il signor Roberto Di Mario di Roma, prima presa, first round. E' la seconda ripresa, first round. E' la seconda ripresa, round. Ed è la fine dell'incontro. Vince questo incontro per KO a 27 secondi della seconda ripresa. Mattia Peroni! 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 Peroni!